vi svegliate un po tardi probabilmente verso le 9 di mattina quando il chiarore del giorno riesce a penetrare la nebbia che oggi è un po più rada comunque dei giorni precedenti e siete nella villa che nel frattempo è diventata fredda probabilmente ogni camino si è spento alla volta di stamane e con voi si risveglia anche Alia e anche Rocco che per prima cosa dice dannazione meggiare le vostre madri cosa mi avete fatto sta buono sta buono ti abbiamo salvato la vita la gamba il piede la gamba lo slego andando beh senza tagliare la corda cerco di slegarla con un po' di metodo ok per carità che costano le corde ok si rialza mette la testa tra le mani poi guarda Bartolomeo guarda Remo su cui si appoggia Bartolomeo me lo presti perché camminare dai dai ti sorreggo io dai forse scendiamo giù e cerco di prenderlo dalla parte raccontaci cosa è successo magari uno zoppo che si appoggia a Remo che aiuta un altro zoppo a chiedere le scale da filmare ti prego viene ad aiutarci anche tu Bartolomeo quando per ora di pranzo riuscite a finire le scale scherzo però ci metteresti un bel po' di tempo a scendere vedete che ogni tanto tira un po' di parolacce Rocco con se stesso lamentandosi della mala sorte però tutto sommato come dire si sta sfogando ma lo vedete relativamente felice di esserci ancora e anche Alia si è risvegliata sì 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 invece Alia si risveglia e vi chiede ma strano gli uomini di di Massimo sarebbero già dovuti essere qui non abbiamo non abbiamo fatto in tempo ieri sera a comunicare quel tuo successo dannazione abbiamo deciso di farlo stamattina appena anzi se ci puoi portare anzi andiamo alla piccionaia mandiamolo subito è meglio che ti accompagni qualcuno va bene va bene seguitemi andiamo non c'è tempo da perdere e poi bisognerà che preparare qualcosa da mangiare o no? va bene una cosa alla volta Alia intanto andiamo a mandare il piccionaio poi lo mangiamo anche in quel mentre sentite gli stomaci che brontolano voi è dal pranzo precedente che non pranzate anzi forse il pranzo non l'avete nemmeno fatto visto che avete fatto la colazione e poi la caccia velocemente con Alia ti conduce alla piccionaia dove tiene tutte quante le gabbiette e vedi che sono divisi in due gruppi e ti spiega che sostanzialmente un gruppo sono i piccioni di Milano e l'altro gruppo invece sono quelli che vanno a Como ok e questa è una stazione di posta tra le due quindi sostanzialmente puoi inviare da e per queste due destinazioni e ti guarda e fa e adesso cosa scriviamo? e ti porge ma io non so scrivere vedi che guarda il foglietto e fa sì una volta una volta scrivevo le buone intenzioni e le preghiere ma sono anni che non scrivo vabbè è importante che tu l'abbia fatto deve essere un messaggio semplice chiaro ok allora vedi che prende ci sono lì dei piccoli stralci di carta e del carboncino e allora vedi che con mano tremante comincia a scrivere qualcosa riconosce una scrittura che sai che è lo stampato latino sostanzialmente la versione più semplice di scrittura e vedi che scrive per un paio di righe e poi arrotola questo foglietto e lo mette nella nell'anello che poi viene fissato alla gamba del piccione e e poi spedisce il piccione che in un lampo si perde in cielo bianco che cosa è scritto Alia? pandemonio sono viva aiutateci o qualcosa del genere mi sembra perfetto chiaro semplice ed essenziale torniamo andiamo a preparare la colazione su oh sì sì ho fame e ok scendete le scale in fretta e trovate e vi ritrovate poi nelle cucine nel momento in cui lei entra c'è il negromante nudo con un'anca tagliata e metta la testa che gli manca Alia caccia un urlo sviene per terra come un sasso e ora chi la prepara alla colazione Cosimo la prepari tu? mi ero dimenticato scusate era tardi riservi un sonno queste sono le cose che fai quando hai sonno voglio immaginare vi passa un po' la fame ma non del tutto perché ne avete troppa quindi in realtà poi l'avete ancora nonostante la pessima scena aiuto Cosimo a buttare il corpo di nuovo fuori in giardino ok e chiudo la porta di nuovo ok ci vuole un po' per far rinvenire Alia che a quel punto si chiude in cucina e borbotta qualcosa su dovrò bruciare quel tavolo pensavo questa casa ma anche magari magari non mangiamo sul tavolo in cui il negromante è stato scogliato vivo da Cosimo infatti vedi che apparecchia apparecchia comunque il piccolo tavolo che c'è che c'è in cucina nel frattempo anche Rocco si sistema lì dolorante lo vedete che probabilmente comunque ha delle febbri qualcosa del genere a seguito del trauma del giorno precedente parla poco non è poi molto lucido ma non vi sembrava molto lucido neanche quando siete arrivati quindi i dati sono relativi mi avvicino e gli chiedo se hanno delle riserve di erbe medicamenti unguenti qualcosa in questo posto ah sì sì la grappa nella seconda credenza di là e basta ti guardo come se non ci fosse bisogno d'altro hai ragionissimo sono d'accordo vado a prendere la grappa e me ne verso un bicchiere e me ne verso un bicchiere anche a lui ok lui svuota il bicchiere e vedi che ne ha un sollievo istantaneo lo riempio di nuovo svuota il secondo e a quel punto gli vedi l'occhio che si fa nell'arco di un quarto d'ora abbastanza abbastanza chiuso comincia a borbottare comincia a cantare canzoncine con se stesso comincia a guardarsi le dita della mano e sorridere ah benissimo fin tanto che non si lamenta si intrattiene lì guardando il mondo ogni tanto vi guarda ride si tocca i capelli ride mamma mia che cosa è questa cosa quanto è forte questa grappa è abbastanza vicino al fatto di essere spirito puro ah ok quindi ho bevuto anche un bicchiere più un bicchiere ho bevuto insieme a lui è interessante come riuscirete a cucinare e a consumare con così tanta tranquillità quello che un pomeriggio per un pomeriggio intero è stato probabilmente tra le mani di un necromante ci vuole fegato un buono stomaco vabbè basta basta cucinare a lungo non è importante poi muore muore tutto Alia si gira e ti guarda da nazione ma pensi che la dispensa sia compromessa con seria preoccupazione non te l'aveva nemmeno valutato la cosa nessuno l'aveva valutata no diciamo che sono prodotte per natura e qui non ho una gran voglia di mangiare ok io però sì che se no se qualcuno non ha del cibo ah noi avevamo il carrello con le provviste andiamo a vedere che fine ha fatto i poveri asini se li saranno mangiati se no al massimo possiamo uccidere un asino scogliarlo e arrostirlo vedete che Alia prende svuota svuota le pentole dannazione ma perché non ci ho pensato prima no no non vi preoccupate abbiamo abbiamo dell'altro e vedete che scompare esce nel nel cortile e sta evidentemente andando verso alcune delle stalle degli edifici di supporto di questa villa e borbota qualcosa sul fatto che ha dei conigli vivi quindi io la seguo col mio passo un po' incerto il fatto è che nel momento in cui esce e va per andare verso questi altri edifici attraversa la corte dove per terra c'è ancora Riccardo anche le sentite urlare e sbattuto e ieri vi preoccupavate del tatto e di un po' di pudore basta mi è passata la voglia di essere gentile va bene lasciate tutti quanti morti in giro siete veramente non meritano di essere seppelliti comunque per qualcun ho parlato di conigli vivi quindi io vado a fare un giro nella direzione in cui lei stava andando senza curarmi minimamente del suo corpo esanime per terra cercando questi conigli vivi io mi giro verso Giano e faccio Giano però dovremmo andare a prendere il nostro cingale ferale perché i nostri soldi erano vincolati al fatto di darlo al nostro amico Massimo quindi diciamo perlomeno la testa esatto andiamo comunque c'è il carro che lo potrebbe trasportare interamente anche per intero Bartolomeo tu vai un attimo a conigli negli ambienti lì dintorni ci sono le stalle vedete che ci sono i vostri asini e insieme ci sono anche degli altri animali ci sono un paio di capre e un cavallo da lavoro e poi invece qualche porta più in là in un edificio che probabilmente una volta era la vera e propria stalla ma grande abbastanza da tenere dozzine di cavalli ci sono delle gabbie con dentro dei volatili e dei conigli perfetto ne abbiamo anche i nostri lobbisti ancora nel caso sì 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 è che comunque insomma diciamo l'animale vivo se lo macelli con cura non hai non hai grossi dubbi che possa essere in nessun modo infettato insomma e allora recupero un coniglio o due qualche provvista dal nostro carro e tento di mettermi a cucinare ok comunque i morti che avete lasciato nella corte sapete che sarebbe buona norma o bruciarli o coprirli in calcia direi bruciarli infatti comunque diciamo anche il resto del cadale del cinghiale ferale a questo punto una volta salva la testa io lo brucierei infatti sì anche perché sicuramente sì anche perché non c'è più il mastro imbalsamatore no appunto non ha più senso diciamo sono un altro per non avvelenare la terra o comunque aver problemi quindi diciamo a parte i nervi che saltano ciclicamente di alia c'è anche uno scopo secondario per prendersi cura di quei corpi insomma adesso dobbiamo mangiare io devo mangiare poi possiamo fare tutto quello che vuole nel frattempo quando ormai il coniglio arrostisce sul caminetto alia ritorna dentro e vedi che si ricompone fa finta quasi di nulla e fa oh bene ma no 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 si sta bruciando per fuori ma dentro sarà ancora crudo lascia stare lascia stare il fuoco è troppo alto e vedi che scuote un attimo la legna e risistema lo sviedo e ti scosta dal dal camino lascia fare mi faccio da parte senza dire niente mi vado a sedere vicino a Rocco che blader no Rocco nel frattempo si è addormentato sul tavolino russando pesantemente allora vado a sedermi lì a godermi un po' di un po' di tepore un po' di riposo aspettando il pranzo benissimo nel frattempo Cosimo e Giano siete dati a prendere il cinghiale vero? si direi che ci organizziamo per farlo con un po' d'attenzione ma senza farlo così tanto per un po' della mattinata ok beh andare e tornare vi ci impiegherà un'oretta un lavoro un po' pesante ma riuscite a farlo un carro pronto e armi alla mano comunque non avete grossi problemi vedete che il cinghiare è ancora là dove avete lasciato e nessuno si è ausato avvicinarsi tornate per tarda mattinata riuscite a fare una colazione verso le 11 ora che sbrigate tutte queste faccende mangiate il coniglio arrosto siete felici finalmente di mettere qualcosa sotto i denti e riuscite a rifocillarvi di questo passa poco tempo dopo questo questo pasto che per troppo tempo si è fatto attendere quando sentite rumore di cavalli provenire dalla strada più cavalli e subito dopo un un incensante bussare alla porta mi dirigo con la mia calma e il mio bastone ad aprire la porta io invece mi dirigo verso la scala che porta il piano di sopra giusto perse sono già lì ok e nel frattempo Alia viene anche lei e dirà e dice sarà il conte aspetta aspetta meglio non essere mai troppo prudenti chi è là aprite questa porta per l'autorità di Dalla Torre apro apro lo spioncino e butto l'occhio fuori per vedere chi è che sta parlando un uomo vedi che è vestito in in armatura porta il simbolo il simbolo dei Dalla Torre sul sul pettorale e dietro di lui ci sono una quindicina di di uomini e un paio di carri faccio senno da lì e tu li conosci questi ci possiamo fidare e vedi che ti guarda e fa non lo conosco ma sono gli uomini del conte chi altri possono essere ah non lo so e comincia ad aprire la porta a rimuovere il chiavistello prego entrate entrate e vedi che quando apri la porta questo tizio ti guarda e fa Mariano Vallone con chi ho l'onore di parlare io sono Bartolomeo Giuliani piacere mio siamo ospiti barra come posso dire impiegati del 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 suo signore si mi aveva parlato di qualcosa del genere voi siete i cacciatori giusto quelli che ha mandato qui qual è la situazione chi è rimasto nella villa chi è caduto Alia e Rocco sono gli unici sopravvissuti Riccardo e l'altro ospite non sono più fra noi l'altro ospite beh avremo modo di parlare di questo con calma finché voi parlate vedete che facendo con la mano destra e gli altri uomini entrano nella villa e alcuni si dirigono direttamente nel cortile e cominciate a sentire poi degli urli ne ho trovato uno dannazione ha anche un'armatura addosso qui ce n'è un altro sembra sembra un corrotto sembra un ossesso dannazione ma che macello e cose del genere e nel frattempo sentite il rumore del cancello che dà sulla sulla strada diciamo quello che permette ai carri di accedere al cortile che viene aperto e i cavalli e i carri che via via entrano in questo cortile sono due carri io faccio faccio cenno al al sergente all'ufficiale che comanda questo drappello i miei due compari sono andati a recuperare la carcassa della fiera che stava infestando il brolo quindi dica ai suoi uomini di non attaccarli quando torneranno con un enorme cinghiale ferale su un carro grazie va bene non vedo il motivo di farlo non si sa mai nella vita bene sempre bene a specificarle certe cose in queste situazioni no Cosimo e Giano voi stiate tornando nel mentre in cui vedete questa scena è proprio questione di minuti alla fin fine e vedete appunto le grandi manovre una quindicina di uomini che si mettono a praticamente passare palmo per palmo la corte interna ad aprire tutto quanto in cerca di di morti o di segni del pandemonio o cose del genere e vedete che Bartolomeo vedi che fanno altrettanto sull'interno della villa e vedi che dai carri scendono scendono delle altre persone sono tre donne e quattro uomini non sembrano uomini d'arme e vedi che questi qui si rivolgono ai militari per ricevere ordini di lì a poco capite che almeno due di queste persone sono dottori del flagello o comunque diciamo curatori di qualche tipo vedete che guardano un attimo i morti per capire cosa hanno davanti poi vanno in giro e trovano prima o poi o gli viene indicato Rocco e vedete che controllano insomma le ferite provano a curarle un attimo meglio pulirle a un certo punto sentite il ma dannazione ma quest'uomo ubriaco eh per il dolore non avevamo nient'altro la grappa era buona e subì ha sofferto tanto è stata una notte dura per tutti via non è una tragedia guardarti con con costernazione lui e la sua assistente scuotendo la testa e grazie all'aiuto di un paio di militari quello portano al piano di sopra lo stendono e cominciano in qualche modo e vivo grazie a noi è inutile che guardate con quella faccia lì se non ci fossimo stati noi lui era bello che è morto esattamente mentre i militari poi nel frattempo passano come dire tutta quanta la villa e a un certo punto sentite dannazione qui c'è un piede sto per urlare quello è mio poi mi contengo e da lì a poco trovano anche il corpo del tedesco che avete mollato da qualche parte in giardino penso vista la vostra buona cura nel lasciare i corpi nei posti migliori praticamente degli untori e sul tavolo no e in giardino no sono contattabili questi milanesi effettivamente diciamo che c'è un certo parapiglia più che altro di quello che voi avete fatto dei corpi e dei morti e non tanto del fatto perché morti non ne trovano ma ci vuole un bel po' per raccapezzarsi di come mai le cose sono messe in questo modo e di perché ad esempio un pezzo del tedesco è nel giardino e il resto no ok io ero fuori ai cantichiari in francese tutto il tempo non li aiuto non li considero molto beh nemmeno loro c'è a dire che considerano molto voi sono praticamente arrivati qui probabilmente con ordini ben precisi li stanno eseguendo e tra questi ordini probabilmente nulla si riferiva a voi tanto più che vi chiedono proprio il minimo indispensabile su quello che è successo però poi come dire vedete che alla fin fine si limitano a 1. mettere in sicurezza la villa 2. pulire come come è dovuto diciamo gli ambienti viene preparato una grande pira fuori e vedete che i dottori del flagello oppure sono semplicemente cacciatori di morti o ancora meno sì beccamorti beccamorti fanno fanno quel che serve per ripulire ripulire tutti quanti gli ambienti vedete che tutte le stoffe che hanno un minimo segno oppure l'intera l'intera stoffe sostanzialmente della stanza in cui vi siete accampati la notte tutto quello che era nella stanza del negromante eccetera viene tutto convogliato fino a fare un enorme pira la terra su cui sono caduti i morti viene scavata e anche quella viene buttata a fuoco ben avviato in modo che venga bruciato tutto e resti solamente la cenere quindi non hanno molto modo né interesse nel badare a voi gli uomini vedete che sono tutti quanti indaffarati a fare sistemare la villa allora della gente che è arrivata nelle carrozze sostanzialmente c'era il medico un assistente e poi vedete c'è anche della gente che sembra a tutti gli effetti servitù questa gente qua vedete che comincia a scaricare delle casse dalle varie carrozze e comincia a pulire e sistemare un paio di stanze della villa in modo che risultino decorose ed accoglienti vengono accesi i camminetti nella parte nobiliare viene ripulito tutto vedete che c'è un grande affare nel risistemare la villa e poco ci vuole a capire che probabilmente sta arrivando il conte che ha intenzione di occupare quelle sale quindi probabilmente ha distaccato parte della sua servitù per preparare la villa in maniera decorosa per il suo arrivo e infatti entro sera vedete arrivare una terza carrozza che sostanzialmente porta il conte alla villa se voi avete qualcosa da fare nel pomeriggio ditemi pure avete parecchie ore libere ne approfitto per trovare un altro po' di riposo comunque il sono notturno non è stato molto tranquillo dato che ogni rumore mi svegliavo con la rama in mano cerco di trovare riposo adesso che ci sono molti uomini in armi intorno sì anch'io sto nella sala comune a bere grappa e riscaldarmi le vecchie osse al fuoco senza preoccuparmi più di tanto il mio dovere l'ho fatto anch'io penso mi riposerò un po' ok perfetto grazie a tutti